Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano Le due VIP riflettono sull'atteggiamento di Jessica, se Sophie crede che la VIP sia stanca, Soleil pensa che lei sia furba Dopo quanto accaduto ieri in puntata, Sophie inizia a riflettere sull'atteggiamento di Jessica e ne parla con Soleil La modella continua a domandarsi perché, nonostante la principessa sia una persona schietta, diretta e sincera, continui a non esporsi nel momento in cui in realtà dovrebbe farlo Sebbene Sophie non voglia pensare a questo suo modo di fare con cattiveria, Soleil vede la situazione da un punto di vista diverso, lo fa perché è furba L'influencer, infatti, dice che a suo parere Jessica non voglia esporsi per paura di dare una cattiva impressione si se e per questo, per evitare di mostrarsi come una persona troppo taliente, evita di rispondere alle critiche Sophie ribadisce il suo pensiero, penso che lei sia triste e stanca e dice che, a suo parere, sicuramente non vuole esporsi in quanto non ha le forze necessarie per affrontare vari dibattiti Le due vipi pensano proprio a quanto accaduto ieri nel corso della catena di salvataggio per l'eliminazione Flash Jessica non è una grande amica esclama Soleil che, delusa per la sua scelta, cerca di far capire alla sua coinquilina che probabilmente dovrebbe rivalutare le persone che sono al suo fianco Ci vediamo nei prossimi video